Sindaco, finalmente ti sei deciso di arrivare qui a sistemare questo cazzo di stallo, ma è possibile? Dammi tempo di prendere le misure però, Vittorio. Tu volete tutto presto e subito in questo paese, ma siete veramente frattori. E sono venuto qua con il mio amico vigile a prendere le misure, per vedere la lunghezza e la larghezza, perché non so se questo stallo è stato creato a fantasia. Ora sono qua con i miei sessori, il comandante dei digini, e prenderemo le misure. Non venderemo più presto. Finalmente un sindaco che si muove, altro quello di Ginosa, che non fa niente. Bravo, bravo sindaco. Grazie a Cusso.